In casa Avellino è cominciato il countdown per gli incontri tra la dirigenza e la coppia per i netti condò, di conseguenza anche con Mr. Pazienza che va verso la conferma per la prossima stagione. Ci sarà però un faccia a faccia importante anche per mettere sul piatto diversi argomenti. Quello che è andato e quello che invece va corretto si parlerà senza dubbio di budget, ambizione e calcio mercato, con l'Avellino che paradossalmente sarà impegnato più sulle uscite che sulle entrate. Infatti il pensiero comune è quello di non vedere una nuova rivoluzione, bensì di rinforzare e puntellare la squadra salutando coloro che non faranno parte del progetto e accogliendo alcune pedine che saranno mirate. Facile pensare subito ad un portiere con Simone Ghidotti che tornerà al comodo col prestito secco. Un ruolo delicato che ha fatto discutere durante la stagione per qualche incertezza del classe 2000 che ha però regalato anche interventi importanti. Sarà la pietra miliare dell'Avellino 2024-2025, il nuovo estremo difensore dei Lupi che probabilmente sarà il primo colpo o uno dei primi colpi di mercato. In via di definizione il ritiro di San Gregorio Magno che accoglierà l'Avellino da metà luglio. A proposito di Abdi, il numero più alto si potrebbe registrare a centrocampo, un reparto che a gennaio ha abbracciato De Cristoforo e D'Ausilio divenuti titolarissimi nonostante l'ex Cerignola sia arrivato come vice Sgarbi e poi Michele Rocca che ha dato grande temperamento e vivacità alla mediana salvo poi essere utilizzato poco nel finale di stagione. Tutto ciò a discapito di tre elementi, pezzella dall'olio e un palmiero che si è rivisto solamente nei playoff, anche se da protagonista. Le strategie di mercato non sono ancora state ovviamente definite, ma è chiaro che per i primi due non possa esserci soddisfazione nel minutaggio avuto a disposizione e si potrebbero fare valutazioni diverse. Tutto ancora prematuro, con Armellino ad esempio, che sembra inamovibile per esperienza e personalità, con i rientri di D'Angelo e Mazzocco da valutare, così come quello di Maisto e Sannipoli, scelte però già fatte da pazienza a gennaio per quanto riguarda questi quattro calciatori mandati a giocare proprio dal tecnico di Sansevero. Comincerà però una nuova stagione, magari con un modulo diverso, magari con idee diverse, per i protagonisti c'è ancora tempo.